Finalizzata la conoscenza del mare e interessata soprattutto ad alimentare la sensibilità verso la tutela ambientale, l'associazione di volontariato Unimar o Università del Mare, strettamente legata al Fano Marine Center, che costituisce una preziosa risorsa nella nostra città per quanto riguarda la ricerca scientifica, ha organizzato per l'anno in corso una serie di iniziative che renderanno pubbliche le linee principali di ricerca. Il programma è stato presentato questa mattina dal presidente Carlo Cerrano, docente di zoologia all'Università Politecnica delle Marche, insieme a Maura Garofoli, che cura i rapporti con la stampa, e all'assessore alla cultura e all'ambiente, Cora Fattori. Un programma con numerosi eventi, proprio volti alla diffusione di conoscenze sull'ambiente marino, affinché sia sempre più facile trovare le misure di conservazione più adeguate per tutelarlo. E si comincia con un problema emergente, quello del granchio blu. Un problema emergente, giustamente, però questo incontro che faremo l'11 gennaio è proprio per dimostrare come da un problema possa nascere un'opportunità. E quindi questa start-up di cinque ragazze di Rimini dimostrerà proprio questo tipo di possibilità al granchio blu, che se adeguatamente gestito e utilizzato può rappresentare una risorsa da vari punti di vista e racconteranno appunto questo tipo di soluzioni disponibili. E quali sono le altre tematiche? Le altre tematiche sono legate comunque sempre in generale alla valorizzazione e alla conoscenza dell'ambiente marino. Partiremo dagli ambienti più superficiali, quindi dalla spiaggia, e scenderemo a maggiori profondità, poco per volta, fino ad esplorare il cosiddetto ambiente mesofotico, quindi una zona di transizione poco conosciuta, per arrivare all'esplorazione degli abissi. Non è un caso che uno degli argomenti più importanti, delle tematiche più importanti trattate dal Comune di Fano è proprio quello del mare e della marineria, inteso proprio come elemento attorno a cui è nata e si è sviluppata la nostra città dal punto di vista economico, sociale, culturale. E vediamo che l'attività di Fano Unimar va a trattare proprio questo, ci fa capire qual è stato il passato, quale sarà il futuro, e lo guarda dal punto di vista scientifico, perché è molto importante anche quell'aspetto. Quindi vediamo che sono argomenti che ci aiutano e ci allenano, alla nostra testa, a comprendere che esiste una multidisciplinarietà, una complessità nei temi, che per governare bene dobbiamo considerare e aver ben presente.